Salve a tutti e ben ritrovati presso la Farmacia Veneto. La pandemia ha portato al blocco di alcuni servizi che le farmacie riservavano ai propri clienti, ma grazie ai dati incoraggianti tutto può ripartire, così le attività possono riprendere, facendo diventare le farmacie sempre più dei piccoli presidi sul territorio. Qui, presso la Farmacia Veneto, infatti, siamo ufficialmente ripartiti con i servizi di sempre, nel rispetto delle norme e con tutte le accortenze del caso. Tutti i martedì troverete la tricologa con esame tricologico gratuito. Un test microscopico del capello e del cuoio capelluto attraverso una microcamera ad alta risoluzione aiuterà ad evidenziare anomalie e problemi che affliggono i vostri capelli, arrivando alla causa, ad esempio cute secca, cute grassa, cute seborroica o con problematiche legate a follicoliti, dermatiti, forfora e pusoriasi. Tutti i mercoledì troverete la podologa che riceve il suo appuntamento. Risolve le problematiche più comuni legate ad esempio al piede diabetico, ad una micosi ungueale, ipercheratosi, ovvero calli e duroni, unghie incarnite e dispensa utili consigli sulla cura e l'igiene del piede. Tutti i venerdì invece potrete prenotare la vostra consulenza nutrizionale. Una consulenza completa di BIA, ovvero bioimpedenziometria, una tecnica innovativa e non invasiva che permette di toccare con mano, insieme alla misurazione della circonferenza, tutti i progressi che otterrete durante il processo di dimagrimento. Questi chiaramente sono i servizi che troverete fissi settimanalmente presso la Farmacia Veneto. Per tutti gli altri servizi e per gli eventi mensili, vi invitiamo a seguirci sulla pagina Facebook Farmacia Veneto e sul profilo Instagram Farmacia Erboristeria Veneto per restare sempre aggiornati. E ricordate, la vostra salute è la nostra felicità!